Pace amici, buona serata, tante belle cose a tutti, in tutte le famiglie, buon cammino in questo mese d'ottobre, il mese dedicato anche alla Madonna, mi raccomando, Papa Francesco ce l'ha chiesto, non manchi tutti i giorni una preghiera mariana, l'ideale è recitare il Santo Rosario, ma almeno qualche preghiera che ci fa sentire la presenza di amore materno di Maria e la presenza di Gesù, nostra guida. Questa domenica l'argomento è d'obbligo, anche se i miei confratelli ne avranno già ampiamente parlato nelle omelie di oggi, non possiamo non toccare Paolo VI, quest'oggi il nostro arcivescovo Giovanni Battista Montini, chi ha letto nove anni anche la nostra archidiocesi di Milano, è diventato santo, canonizzato, dopo un lungo percorso anche potremmo dire a livello canonico. Paolo VI, il Papa della modernità, chi ha dato risposte agli interrogativi dell'uomo. Ecco, sono passati 40 anni dalla sua scomparsa, moriva il 6 agosto del 1978 e 40 anni dopo oggi canonizzato in piazza San Pietro. Ecco, cosa vorremmo dire di questo grande Papa, da figura eccezionale, non molto apprezzato sul momento, anzi oggetto di molte critiche. Qualcuno dice un parallelo un po' come Papa Francesco, che è molto amato ovunque, ma ci sono non pochi che lo criticano, purtroppo. Il Papa Paolo VI è difficile sintetizzarlo in pochi minuti, ma certamente una delle immagini che vorremmo ricordare questa sera è il Papa attento alla gioventù. Stiamo celebrando in questi giorni il sinodo per i giovi, lo riprenderemo nelle prossime domeniche, abbiamo un po' approfondito in tante maniere, ma lui iniziò proprio con i giovani della Fucci, che erano a Camaldoli. Camaldoli era diventato, e anche oggi, è un grosso centro di cultura cristiana, oltre che di spiritualità. Era stato proprio il giovane prete bresciano, due generazioni prima, quelle poi che avranno anche vissuto la ricostruzione in Italia, a condividere la spiritualità unendo fede, cultura e teologia, teologia della storia. Ecco perché questa immagine, è difficile pensare un Papa Paolo VI con Voitiva, viene già più facile, era in mezzo ai giovani, quando rideva con loro, sbatteva il bastone, oppure faceva i tanti gesti. Ecco Paolo VI forse era un po' più preso dalla figura del Papa come protocollare, usava ancora la sedia gestatoria, insomma è un passaggio tra il Papa un po' più, se vogliamo dirlo tra virgolette, prigioniero del passato, e il Papa che si apre anche a una modernità di linguaggio e di azione. Ma certamente Papa Paolo VI, chiamiamolo Montini, Giovanni Battista Montini, era attentissimo alla gioventù, al punto che nei suoi cenni biografici vediamo un uomo di cultura, molto intelligente, che già appena diventa sacerdote, siamo il 29 maggio del 1920, era un giovane prete, aveva 23 anni, diventa sacerdote e subito, avevano scoperto il valore della persona, viene trasferito a Roma, dove studia? Sappiamo che studia diritto civile, diritto canonico, addirittura in gregoriana, consegue anche degli studi in università statale, soprattutto le materie che gli saranno più congeniali, la filosofia e le lettere. I suoi scritti sono splendidi, anche dotato di una grande capacità di scrittura, di stesura dei documenti e il suo pensiero che si, in un certo senso, alimenta su una filosofia molto solida e in particolare sui pensatori cattolici del XX secolo e la corrente del personalismo, per chi è un po' esperto di filosofia, Gabriel Marcel, Mounier e Maritain, sono i suoi grandi maestri e nello stesso tempo anche coloro con cui entra in contatto, in dialogo con molti di loro, con cui stabilisce una proficua relazione continua, anche poi nei momenti cruciali, specialmente durante il Vaticano II e con la sua carriera, vero, inizialmente diplomatica e diventa anche lungamente impegnativa in segreteria di Stato, ma svolge per quasi dieci anni l'assistenza ecclesiastica alla nascente Fucci, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Questo dà un forte senso di pastoralità, di aderenza a quelle che è la realtà che stava enormemente cambiando, la rivista Studium pubblicata in precedenza fuori Roma, perché c'era anche la censura del tempo, verrà poi a confluire con tutti i suoi articoli, ben 200 scritti, che fanno parte di un testo che è Coscienza Universitaria del 1930, l'avevamo letto quando eravamo seminaristi, che racchiude un pensiero dei Papa Montini splendido, da giovane sacerdote, già capace di lungimiranza nell'individuare la società scristiana, animata non da un'imposizione di quello che possiamo chiamare la cultura cristiana, ma da un dialogo aperto con il mondo, attento ai valori propri dell'uomo, dell'integralità dell'uomo, come suoleva dire raccogliendo l'insegnamento di Maritain sull'umanesimo integrale. E Montini più volte accusato, anche un po' dei superiori, di essere qualche volta un po' come dire troppo attento a questa modernità quasi andando a compromessi, ha avuto anche lui le sue difficoltà, tant'è vero che nel 1933 deve lasciare la Fucci, deve lasciarla perché molto probabilmente ci sono anche delle pressioni civili, era un sacerdote molto capace e anche un po' scomodo e da quel momento si impegna in segreteria di Stato e ha un ruolo anche notevole in quello che sono i momenti difficili della Roma occupata, dei tedeschi, dove come sostituto di segretario di Stato di Papa Pacelli, di Pio XII, contribuisce al salvare molte vite umane, soprattutto degli ebrei, di dissidenti politici, in quello che è l'azione segreta ma molto intensa della Santa Sede anche a livello diplomatico. Ecco allora, potremmo definire la sua vita un uomo per tutte le stagioni. Da giovane occupa la Fucci, gli universitari, la cultura cristiana, la gioventù, un impegno notevole alla segretaria di Stato che segue con passione, con dedizione, anzi diventa l'uomo di fiducia di Papa Pio XII. E poi tutto questo lo porta ad essere sempre più attivo in quello che sono gli affari ordinari della Chiesa. Infatti nel dopoguerra e proprio Pio XII nel 1954, al primo di novembre, a eleggerlo arcivescovo di Milano, dove svolge per nove anni un encomiabile servizio. I sacerdoti di qualche anno in più di me lo ricordano bene, molto attento alle parrocchie e soprattutto di periferia. Il famoso piano Montini, le 25 chiese, costruite proprio per essere nei luoghi più difficili, a volte anche quasi irraggiungibili della diocesi. Basta pensare alla periferia di una Milano che allora era piccola negli anni 50, ha il boom economico con la grande immigrazione. Ecco, Papa Montini attentissimo, la grande missione di Milano nel 1957, dove c'è una predicazione missionaria in tutti i luoghi, la capacità di portare il Vangelo ovunque. E questo, allora, vediamo poi nel Paolo VI, che oggi giustamente è stato canonizzato, il Papa attento a una Chiesa che sta in un mondo che cambia, che cambia rapidamente, e che deve cambiare non tanto i contenuti, ma i modi, i metodi, le forme, che diventa la Chiesa conciliare e post conciliare. Papa Paolo VI prende possesso della sede Petrina nel 1963 alla morte di Papa Giovanni XXIII, siamo verso la fine di giugno, e riprende energicamente in mano il Vaticano II, i suoi documenti, le sue prese di posizione favoriranno la conclusione del concilio due anni e mezzo dopo. E porterà soprattutto una concezione antropologica, cioè dell'uomo, che ha elaborato con delle risposte a tante domande, di cui una è quella più importante. Chi è l'uomo nel tempo di oggi? Ma chi è l'uomo a partire da chi è Dio, colui che si è incarnato, colui che ha dato la vita per noi. L'uomo va salvato nella sua completezza. Ecco perché i documenti di Papa Montini sono soprattutto tendenti a una Chiesa che dialoga, ha un valore grande del sacerdote, l'uomo che si mette a servizio degli altri, la famiglia, l'Umane Vita è uno splendido documento di 50 anni fa, che tende a far riflettere profondamente sulla dignità della coppia, della famiglia, dell'amore umano, tutto il rispetto che si deve avere per la natura e per quello che è l'amore di coppia. E le grandi scenari mondiali, le popolo hanno un progressio, sono encicliche, dove Papa Paolo VI immette questa sua grande carica di umanità, frutto di un dialogo, di una grande apertura universalistica. È lui il Papa che comincia i viaggi apostolici. La Terra Santa era giunta subito nell'inverno all'Epifania del 64, a pochi mesi dalla sua elezione, ai viaggi molto lunghi dell'India, delle Americhe, delle Filippine, per indicare la Chiesa che va verso le genti, la Chiesa delle genti, la Chiesa che parla a ogni uomo. E poi il Papa del dialogo, il Papa che va all'ONU, il Papa che incontra tanti statisti, il Papa che vive momenti anche difficili in mezzo a un 68 di contestazioni ideologiche e che non perde il desiderio e la volontà sempre di creare un dialogo, dialogo attento a far emergere la verità, a dare a ciascuno la possibilità di esprimersi e a cercare di capirne le esigenze e le urgenze. Ecco perché Paolo VI non si presenta alla coscienza dei moderni con la sicurezza di chi possiede la verità, ma guarda l'uomo in un calendoscopio esistenziale dove la filosofia contemporanea ha individuato vie non per imporre ma per essere sempre all'altezza di un mondo che cambia, comprendere la cultura, comprendere l'uomo e aiutarlo a incontrarsi con Dio. Grazie di questo ascolto. Continuiamo la nostra preghiera anche con un santo in più, quello di oggi, onorati di averlo avuto dalla nostra chiesa milanese. Buona serata a tutti e come sempre buona cena.